Ciao amici, benvenuti nel mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Rimanete sintonizzati grazie. La somiglianza tra i protagonisti di Outlander e Love is Inder è più di una coincidenza. È un'enorme coincidenza e si assomigliano molto. Abbiamo esaminato gli aspetti comuni di Karen Bursin e Sam Eugan e ora capiamo tutto, sono cloni. È tutto sull'Instagram di Sam. Se guardi da vicino, vedrai che Sam Eugan, 42, ha gli stessi gusti e gli stessi hobby di Karen Bursin, 35, oltre alla sua somiglianza fisica con la star di L'amore è nell'aria. Ma c'è di più. Anche molti fan di Anchors se ne sono accorti e hanno persino compilato una serie di servizi fotografici ispirati o che sembrano pericolosamente simili a quelli di Sam e della sua partner nella serie, l'irlandese Caitriona Balfe. O è il contrario? Indipendentemente da ciò, entrambi adorano i loro animali domestici, ma questa volta è il cane di un fan che assiste all'autografo del suo ultimo libro, con l'inseparabile amico di Kerem Hector, che si presenta, e Sam che si presenta. Waypoint. E come si adattano a un abito? A sinistra, vediamo Sam Eugan con un dolce vita e un abito blu estremamente bello e attillato alla consegna del premio BAFTA per la sua serie TV, Outlander, e a destra, vediamo il bellissimo Kerem Bursin in un più abito classico con gilet. Stesso tono e cravatta rossa. Ognuno ha modo suo ma estremamente sexy. Perché non lo è? Nello specifico, Squire ne ha procurato uno a Sam nel nostro paese una settimana fa, ma Kerem ha già diverse copertine dell'edizione turca della stessa rivista. Copertine di Esquire, GQ, Buse e altro ancora. Che siano in moto o in macchina, i protagonisti di Outlander e Love is in there amano il mondo delle moto. Ovviamente Sam Eugan preferisce le motociclette, di cui ha una vasta collezione, e Kerem preferisce le auto. Nonostante la sua passione per la velocità, il motore e la potenza, Kerem preferisce il marchio BMW, di cui è ambasciatore, e Sam preferisce Audi. Così simili e così diversi. Ah! E non ci sorprende perché è uno sport di contatto molto completo che aiuta a scolpire i corpi di due divinità greche, Sam e Kerem. Siamo noi o questi due erano separati alla nascita? Vero, ma ovviamente la più grande differenza tra i due è che Sam è l'immagine di una varietà di bevande ad alto contenuto alcolico come la tequila, e il tequileno, e il whisky scozzese Sassenach, e Kerem Bursin, la stemio. Tè freddo Lipton. E dopo aver visto le foto, dovrebbero mangiarle e berle. Ma attenzione, dopo tutte queste coincidenze che vi abbiamo mostrato, gli utenti di Twitter vedevano soprattutto Sam e Kerem, o meglio le coppie protagoniste di Outlander e Love is there. Qui lasciamo le scene che sembrano ispirate a Outlander per il servizio fotografico di Ande Ercele e Kerem Bursin. Oh mio Dio, ci fermiamo. Non c'è dubbio che il loro stile è molto simile, e anche il loro aspetto fisico è simile, ma al momento il loro lavoro conserva lievi differenze. Sam e Kaitriona recitano insieme in un dramma storico e Kerem e Ande in una commedia romantica, che li separa dall'essere una replica esatta. E cosa ne pensi? La somiglianza degli eroi di Outlander e Love in the Air. Sono puramente casuali o sono deliberatamente copiati? Sam e Eugam di Ande Ercele. Capiamo ora che l'hai messo su Instagram? Stessa cosa sì.